La battaglia contro l'inquinamento da polveri sottili non si vince a suon di multe e quanto emerge dall'analisi delle sanzioni effettuate dai cinque comuni della Piana dall'inizio dell'anno sulla base delle ordinanze anti-smog emanate per far fronte all'emergenza inquinamento. Secondo la rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria, la Piana è il bacino più inquinato della Toscana per quanto riguarda le polveri sottili. Di qui le misure dei cinque comuni che da un lato hanno limitato la circolazione dei veicoli più vecchi e inquinanti e dall'altro hanno vietato gli abbrucciamenti all'aperto e alcune tipologie di combustioni. Ma dall'inizio dell'anno effettivamente quante sanzioni sono state elevate? Il comune più meticoloso è quello di Lucca. Tra gennaio e febbraio la polizia municipale ha elevato due verbali e i carabinieri forestali altri sei. Dal municipio spiegano che nel primo caso si tratta di sanzioni a veicoli e nel secondo di abbrucciamenti. Da Palazzo Orsetti fanno sapere che i controlli erano scattati già alla fine del 2023 con un verbale della municipale e tre della forestale elevati tra novembre e dicembre. Gli altri quattro comuni della Piana non hanno elevato alcuna sanzione ai veicoli. Monte Carlo ha effettuato sette multe per abbruciamenti, Porcari cinque, Alto Pascio nessuna, mentre Capannori non ci ha comunicato il dato. Il comune di Alto Pascio precisa di aver intensificato i controlli sia sui veicoli che sugli abbruciamenti, ma di non aver riscontrato violazioni dall'inizio dell'anno.